Mi è piaciuta l'organizzazione che si è stata nell'evento, la serenità e la tranquillità, la bellezza delle persone che ho visto e vedevo un'emozione vera, sentivo un'emozione vera delle persone, cosa che di fuori non vedo. Prima giudicavo male, le giudicavo in modo falso, dicevo queste persone che fanno queste cose sono false, non lo fanno con il cuore, hanno uno schema da seguire. Invece qui ho visto persone che lo fanno con il cuore, ecco, questo ho visto. Io consiglierei questo corso a tutti, innanzitutto, però questo corso è per tutti, ma se sono pronte le persone ad accettare questo percorso, perché è un percorso forte, molto forte, pace, e mi porterò anche la tranquillità di mia moglie e la felicità sua, perché è stato un bel percorso. Io il percorso della Divine Connection l'ho fatto in prima battuta per sbloccare mia moglie, che poi ho scoperto di averlo prima io e il blocco, e quindi mi porto serenità, felicità e tanto amore in questi due giorni di evento che abbiamo passato. Saluto a Patrizia e ti ringrazio per tutto quello che fai e per tutto quello che farai.